Il titolo è il titolo, sono i tre i piloti a giocarsi nella colonna, al primo fondo della classifica è Martin Keegan, la seconda posizione è quella di Larry Tembord, il pilota olandese, Martin Keegan è il pilota sudafricano e questo non si tratta di un solo punto intransifico che non è difficile che sia questa gara. Grazie a tutti. 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 australiano, sì, con la Porsche preparata dal B-Driver. Da Al andiamo in nona fila per trovare con il numero 14 Steven Giacon, Giacon corre con la Porsche preparata dalla scuderia Villorba Corse, accanto a Giacon a chiusura della nona fila troviamo con il numero 25 Daniel Gregor, pilota del B-Driver Experience. Decima fila per il numero 10 Armani della prima Ginzani Motorsport, accanto a lui con il numero 15 parte festante Dynamic Motorsport anche la squadra che prepara la sua Porsche. L'undicesima fila per il finlandese Robampera, pilota del Team Giacon in Motorsport, numero 69 la sua Porsche. Al cattolo che troviamo con il numero 24 Fant, Tim Marcelli, il numero 24 è Filippo Fant del Tim Marcelli. Dodicesima fila per il numero 3 si tratta di Alberto Cerqui del Tim B-Driver, accanto a lui a chiusura della dodicesima fila troviamo con il numero 18 Cosimo Papi, la cui Porsche è preparata dall'Abi Motors. Tredicesima fila per il numero 52 si tratta di Alberto De Amicis, la sua Porsche è preparata dall'Abi Motors, accanto a lui con il numero 50 parte Francesco Maria Fenici, la cui Porsche è preparata dalla Raptor Engineering. Andiamo in quattordicesima fila per provare con il numero 56 Cesare Brusa del prima chiusa di Motorsport, accanto a lui con il numero 27 troviamo Ludovico Laurini della Dynamic Motorsport, Laurini Dynamic Motorsport, esatto. Penultima fila, terz'ultima fila per il numero 54 Stefanelli, il team è Marcelli, 54 Stefano Stefanelli, accanto a lui con il numero 99 troviamo Aoria Cerigut, il pilota della scuderia di Lorba Corsa, penultima fila per la sedicesima e penultima fila per il numero 53, ovvero Takami Motoki, Takami Motoki è un pilota del team Ombra, accanto lui con il numero 51 è Paolo Niemmi, pilota delle B Motors. A chiudere questo nuovo schieramento di partenza è in diciassettesima fila, Van Eindhoven con il numero 4 Uwe Van Eindhoven, chiaramente è un pilota olandese del team B-Driver. Questa è l'elenco dei partenti per quanto riguarda la Porsche Carrera Cup con una gara sulla durata dei 30 minuti più un giro. Grazie. 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 Grazie a tutti. Buongiorno.